Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continuiamo con queste micro lezioni dedicate agli effetti in Adobe Premiere dimostrazioni pratiche su come utilizzare effetti presenti di default in Premiere per creare qualcosa di interessante, ok? Per risolvere anche problemi comuni ad un montatore video Nella scorsa lezione abbiamo visto come ritagliare un video quest'oggi vedremo come oscurare un volto un volto o anche una porzione di immagine che non vogliamo in qualche modo far riconoscere o vedere in maniera chiara Prima però vi ricordo il mio sito internet www.fabioambrosi.it su quel sito internet troverete gli articoli di questi tutorial troverete anche l'elenco di tutti gli argomenti che abbiamo affrontato fino ad oggi e che affronteremo nei prossimi mesi commentate i singoli articoli se avete domande se avete dubbi, se volete fare qualche richiesta particolare oppure commentate questi stessi video iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere i prossimi tutorial e bando alle ciance continuiamo subito con il tutorial di oggi come come detto oggi vedremo come oscurare un volto e per farlo utilizzeremo i video che abbiamo già utilizzato la settimana scorsa nel video precedente allora chiaramente scegliamo solo uno dei due video da utilizzare scegliamo il primo video quello per capirci del me bacchettone ok anzi no facciamo così utilizziamo l'altro video quello con il me cialtrone quello che ha fatto il video sfocato e con tanta luce messa male e vediamo come sostanzialmente nascondere il mio volto come si fa? allora intanto dovete scegliere cosa volete fare volete sfocare il volto, volete mettere un cerchio nero che oscuri l'immagine volete mettere un mosaico che scomponga l'immagine in tanti pixel in maniera da renderla irriconoscibile insomma dovete scegliere quale è il vostro approccio per oscurare un volto o anche una parte di immagine adesso noi oggi lavoreremo su un volto ma nessuno può impedirvi non so di nascondere una targa di un'automobile il procedimento è esattamente lo stesso vi farò vedere oggi tre modalità per oscurare un volto cominciamo dalla sfocatura ovvero come sfocare questo volto intanto chiaramente apriamo il pannello effetti e cerchiamoci la sfocatura gaussiana la sfocatura gaussiana è una tipologia particolare di sfocatura che si ispira a degli algoritmi matematici sviluppati da un matematico importante quale Gauss e grazie ai suoi algoritmi è stato sviluppato questa sfocatura che è molto performante e anche di buona qualità Premiere mette a disposizione altre tipologie di sfocatura siete liberissimi chiaramente di scegliere la tipologia di sfocatura che preferite il procedimento per applicare un effetto è sempre lo stesso individuate l'effetto lo trascinate sopra la clip video e nel pannello controllo effetti l'effetto viene aggiunto in coda in questo caso abbiamo la sfocatura gaussiana aumentiamo chiaramente il valore della sfocatura perché se è a zero non vedrete nulla aumentiamo a piacimento se volete evitare che i bordi della nostra immagine siano sfocati sfumati verso il nero potete attivare questa opzione ovvero duplica i pixel del bordo vedete che se io la attivo guardate il monitor per avere un'idea di cosa accade vedete che il bordo è molto più netto così è con questa opzione accesa e così è con questa opzione spenta è una opzione totalmente al vostro gusto non ha diciamo nessuna conseguenza particolare però facendo così abbiamo chiaramente oscurato l'intera immagine è noi quello che vogliamo invece oscurare solo la mia faccia come si fa? per fare questo dobbiamo introdurre un concetto importante che è il concetto di maschera la maschera non è altro che uno strumento che ci permette di limitare la portata di un effetto ad un'area ben precisa della nostra immagine come detto noi vogliamo sfocare solo il volto non tutta l'immagine e quindi utilizzeremo le maschere per poter dire a Premiere sfoca soltanto ciò che è dentro alla maschera che andremo ad applicare come si applica una maschera? quello che sto per dirvi riguarda un po' tutti gli effetti in Adobe Premiere tutti gli effetti che hanno sotto al nome questi simboli quindi un cerchio, un quadrato o una penna vi permettono di inserire una maschera in questo caso noi individuiamo questo ovale ci premiamo sopra con il tasto, ci clicchiamo sopra con il tasto sinistro del mouse e vedete che nella nostra immagine viene inserita questa maschera circolare azzurrina, blu che sostanzialmente va a delimitare la portata dell'effetto sfocatura solo all'area che ricade all'interno di questa maschera cliccando col tasto sinistro del mouse all'interno di questa maschera e tenendo premuto potete spostarla e posizionarla a piacimento lavorando con queste manopoline potete allargarla e disegnarla a vostro piacimento potete anche ruotarla se preferite ecco io vedete clicco, trascino, clicco e trascino ancora clicco e trascino se cliccate all'interno o meglio se cliccate sopra alla maschera non sulle manopole potete aggiungere ulteriori punti per esempio vedete che io qui ho inserito un altro punto per andare ad adattare la mia maschera al mio faccione ecco a grandi linee ho oscurato il mio volto per intero potete essere più precisi di così l'unica cosa state attenti perché le maschere di Premiere ancora non sono molto precise so che ci stanno lavorando speriamo che in una release successiva di Premiere le maschere vengano rese un pochettino più agili se avete sbagliato potete fare CTRL Z e l'ultima modifica chiaramente viene inannullata detto questo sostanzialmente avete fatto avete oscurato soltanto una porzione di immagini grazie alla nostra maschera 1 ma c'è un problema il problema è, e mi segno questo timecode capirete subito perché se io adesso mando in play vedete che la maschera non va a seguire i movimenti del mio volto la maschera resta ferma lì dov'è perché questo? perché chiaramente le informazioni sulla posizione della mia maschera non sono state animate la mia maschera è rimasta esattamente lì dove io l'ho disegnata allora mi riposiziono nel punto in cui ho applicato la mia maschera in maniera tale da renderla esattamente compatibile col mio volto e a questo punto devo animare qualcosa cosa direte voi devo animare la posizione della maschera i valori della maschera, della posizione della mia maschera vengono registrati dentro al parametro tracciato maschera però come potete vedere qui non abbiamo dei parametri degli argomenti, dei valori veri e propri ma abbiamo dei bottoncini tra breve tempo vedremo a cosa servono questi bottoncini intanto vi dico che come avete imparato nelle lezioni precedenti per animare qualunque parametro nel pannello controllo effetti dovete attivare il cronometro ok? vedete che qui ho un cronometrino lo attivo e da questo momento in poi quando sposterò la maschera verrà tutto registrato dentro un keyframe se non vi è chiaro il concetto di keyframe vi consiglio di tornare indietro di qualche video tutorial e recuperare la lezione in cui ho spiegato che cosa sono e a cosa servono i keyframe quindi spero che questo argomento sia chiaro in questa sedia vado un pochettino avanti ok? dicevo mi ingrandisco un pochettino la timeline riseleziono la clip riseleziono l'effetto riseleziono la maschera così da far ricomparire questa linea blu l'ho già detto nel tutorial precedente se per qualunque motivo non vedete questa maschera blu all'interno del vostro monitor sappiate che su Windows c'è un piccolo bug innanzitutto dovete chiaramente selezionare la clip altrimenti non vedrete mai la maschera selezionare la maschera stessa e in questo caso dovreste vedere la maschera sul monitor se ancora non vedete nulla provate a ridimensionare il pannello del monitor ok? c'è questo bug che ancora non è stato risolto in Premiere in Windows per cui a volte capita che anche selezionando la maschera non viene visualizzato il tracciato all'interno del monitor è un problema noto speriamo lo risolvano quanto prima ok? detto questo abbiamo attivato i fotogrammi chiave e a questo punto vedete che qui nell'area riservata ai keyframe è stato aggiunto un diamantino che sostanzialmente memorizza la posizione di questa maschera in questo momento temporale vado avanti un pochettino premendo la barra spasiatrice vedete che il mio testone si è spostato clicco dentro la maschera ecco cerco di adattarla al mio testone e vedete andiamo ad ingrandire che è stato aggiunto un secondo fotogramma chiave che memorizza la posizione della maschera in questo momento temporale questo è un lavoro che dovrete fare un po' per tutto il video quindi andare avanti spostare la maschera andare avanti spostare la maschera e via discorrendo fino alla fine c'è una buona notizia la buona notizia è che nelle ultime versioni di Premiere è stata aggiunta la funzione per tracciare la maschera in automatico non è sempre una buona cosa perché soprattutto se il video non è di buona qualità e soprattutto se la telecamera si muove troppo questa cosa non riesce abbastanza bene però è un tentativo che prima di perdere tanto tempo a inserire keyframe manualmente potete sperimentare come si fa a tracciare una maschera in automatico bene dopo aver selezionato chiaramente la maschera di nostro interesse e dopo aver selezionato l'opzione il parametro tracciato maschera potete premere questo bottoncino che viene chiamato traccia in avanti la maschera selezionata che serve a fare proprio questo proviamo vedete che Premiere sta lavorando nella versione in cui mi trovo io in questo momento che è la 13.1.1 non viene mostrato nulla credo che sia un bug di Premiere ma vi posso garantire che in questo momento Premiere sta lavorando e sta analizzando i fotogrammi di questo video cercando di spostare in automatico la maschera a seconda dei movimenti della mia testa ripeto se cambia l'illuminazione come sicuramente accadrà in questo video o se c'è qualche sfocatura o qualche variazione improvvisa nella posizione della videocamera questa opzione non funziona correttamente Premiere non sarà in grado di tracciare correttamente i movimenti della maschera in quel caso dovrete intervenire a mano premo ESC sulla tastiera per vedere cosa è successo ma eccola ha finito fantastico ha finito in automatico vedete che qui sono stati aggiunti in automatico tanti piccoli keyframe e già so che non ha funzionato benissimo questa opzione automatica perché vedete per esempio qui l'immagine è totalmente scura i pixel diciamo si sono un po' confusi e Premiere non ha saputo tracciare correttamente il movimento dell'intera clip però credo abbia fatto un buon lavoro soprattutto all'inizio vediamo vedete guardate come segue in automatico guardate qui adesso cambia l'illuminazione della stanza cambia l'illuminazione o meglio della mia testa e in questo punto Premiere non sa più cosa fare perché ha perso il riferimento con i pixel sottostanti quindi da questo momento in poi qui ha recuperato qui torna a essere buio e Premiere un'altra volta ha perso le coordinate in questi casi voi dovete andare qui sui keyframe chiaramente ingrandire posizionarvi nel punto in cui viene perso il contatto con la realtà della mia testa per esempio qui rimuovere i keyframe di questa sezione chiaramente e vedete selezioniamoli premiamo cance sulla tastiera e in questo caso dovete aggiustare voi a mano ok ok grandi linee questo è dovete chiaramente rimuovere i keyframe sbagliati altrimenti Premiere continuerà a tenerli memorizzati è un lavoro un po' di pazienza ecco potete per esempio provare inizialmente a tracciare in automatico poi vedete se è proprio impossibile recuperare eliminate la porzione di immagine la porzione di keyframe che non funzionano e li agite manualmente in un esempio tipo questo tracciare in automatico può essere anche totalmente una perdita di tempo potete lavorare direttamente su sull'immagine quindi mettiamo il keyframe primo keyframe ma andiamo avanti ma andiamo ancora avanti in questo caso per esempio lavorare a mano è più veloce che provare a tracciare dipende dai casi e dipende dalla tipologia di video che avete a disposizione oh quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con l'effetto sfocatura gaussiana ma nessuno ci vieta di fare la stessa cosa con un altro effetto per esempio se io digito qui nella barra degli effetti mosaico vedete che viene evidenziato un ulteriore effetto che si chiama mosaico anche qui come per la sfocatura l'effetto mosaico viene applicato a tutto il fotogramma a tutto il frame vedete qui posso modificare i parametri dell'effetto per rendere il mosaico un po' più fitto o un po' meno fitto in questo caso un po' troppo fitto perché così poi posso essere riconoscibile a me fanno molto ridere quei servizi televisivi in cui vanno a nascondere il volto delle persone e poi però sostanzialmente lo lasciano praticamente riconoscibile esagerando nell'effetto per esempio se io qui mettessi 100 100 è vero che c'è un effetto mosaico ma praticamente talmente fitto che la mia immagine viene resa chiaramente visibile quindi nell'impostare questi valori state molto attenti cercate di rendere sempre una persona irriconoscibile altrimenti è inutile che fate questo lavoro comunque polemica a parte vado ad inserire anche qui una maschera che è esattamente quello che abbiamo fatto prima per quanto riguarda la sfocatura gaussiana e vedete che il procedimento è esattamente lo stesso grazie alla maschera io vado a limitare la portata dell'effetto mosaico solo all'interno della maschera non l'ho detto ma la maschera ha anche dei parametri provate a giocarci vedete cosa fanno per esempio c'è la possibilità di invertire la maschera in questo caso io ho reso attivo l'effetto solo all'esterno della maschera e non all'interno questo secondo di quello che dovete fare non c'è una regola la regola è lo scopo che voi vi state ponendo in quel momento potete rendere i bordi di questa maschera un pochettino più morbidi allargarli sfumarli un pochettino questo è il parametro della maschera dell'effetto dicevo no potete ecco sfumare un pochettino i bordi della maschera per non renderli troppo troppo netti giocate un pochettino con questi parametri e vedete a cosa servono l'importante è qui che avete capito ecco a cosa serve una maschera e come limitare la portata di un effetto a una sola porzione della nostra immagine chiudo questo tutorial mostrandovi un altro effetto che è l'effetto cerchio ok lo vedremo ancora l'effetto genera cerchio quando vedremo come fare dei cerchietti per evidenziare una porzione di immagine in questo caso noi però applicheremo l'effetto cerchio alla possibilità di oscurare un volto invece di utilizzare una sfocatura invece di utilizzare dei pixel con il mosaico come abbiamo fatto poc'anzi utilizzeremo un pallino bianco appena applicato l'effetto cerchio chiaramente vedremo solo un cerchio e tutto nero intorno la prima cosa che dovete fare è modificare questo parametro non mi dilungo troppo sullo scopo di questo di questo parametro giocate un po' con questi valori per capire a cosa a cosa servono noi in questo in questo tutorial per il nostro scopo posizioneremo il valore della modalità di fusione da normale da nessuno a normale vedete che cambiando questo valore vedremo solo il pallino bianco senza più il nero intorno ok in altre parole diciamo a premiere dimostrarci soltanto il pallino e di rendere trasparente tutto il resto ho anche qui giocate con i parametri dell'effetto per capire qual è il loro scopo io in questo caso ho creato un pallino bianco posso farlo anche rosso a nostro piacimento posso spostare questo pallino rosso in maniera tale da renderlo più diciamo adatto alle nostre esigenze quindi quella di oscurare il mio volto l'unica cosa che c'è da dire in questo caso è che io devo animare il parametro della posizione che in questo caso si chiama centro vedete che questo parametro chiamato centro mi permette di spostare il mio cerchio all'interno del fotogramma ma la brutta notizia è che qui non c'è la possibilità di animare in automatico questo parametro quindi la brutta notizia è che dovrete inserire i fotogrammi chiave a mano ok quindi dovete andare a spostare a mano ora lo farò per qualche frame poi lasceremo perdere ok se adesso mando in play per questo pezzettino vedete che il cerchio segue la mia testa possiamo utilizzare anche qui una maschera assolutamente si vedete che chiaramente in questo caso la maschera va ad attivare il mio cerchio solo nello spazio che cade all'interno della maschera ma in questo caso è abbastanza inutile e anzi forse anche pericoloso però magari animando la maschera potete vedete creare degli effetti simpatici non lo so dovete giocare poi in realtà non c'è una regola sugli effetti l'unica regola è la vostra fantasia e lo scopo che avete davanti a voi per esempio ho scoperto in questo momento per esempio che creando un cerchio inserendo una maschera e animando questa maschera posso che ne so avere un effetto molto interessante modificando per esempio la fusione vediamo se troviamo qualcosa di carino non voglio perdere troppo tempo invece si guardate come guardate come si vede un po' la mia testa sotto questo cerchio rosso non lo so giocate un po' con gli effetti perché poi alla fine la verità è che non vedremo tutti gli effetti disponibili in premier anche perché ci sono degli effetti che si possono acquistare e ci sono anche dei tutorial dedicati però il modo migliore per imparare ad utilizzare gli effetti in premier è giocarci avete gli strumenti per poter lavorare da soli giocate con le maschere giocate con i parametri in questo caso sia dell'effetto sfocatura gaussiana sia dell'effetto mosaico sia dell'effetto genera cerchio e vedete un pochettino cosa riuscite a fare da soli ricordate che le maschere possono essere animate in automatico con questi bottoncini e ricordate chiaramente che tutti i parametri possono essere animati purché abbiano a fianco il simbolo del cronometro ok nessuno vi vieta come abbiamo appena detto di inserire una maschera o anche più maschere animarle e lavorare come volete giocate 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 se avete voglia ci vedremo nel prossimo tutorial dove vedremo come inserire un cerchietto rosso in parte l'abbiamo già visto quindi andremo abbastanza veloci nel prossimo tutorial cerchietto rosso non so per evidenziare una porzione di immagine che è particolarmente a noi interessante venite a trovarmi sul sito internet fabbiambrosi.it dove troverete gli articoli scritti di questi tutorial dove troverete anche l'indice di tutti gli argomenti che affronteremo in futuro e che abbiamo già affrontato in passato se vi fa piacere registratevi iscrivetevi a questo canale youtube passate parola ai vostri amici se conoscete qualcuno che vuole imparare ad utilizzare premier e basta così ci vediamo nel prossimo tutorial ciao e grazie